Sicuramente per noi è un momento molto difficile, abbiamo perso sette punti in tre partite, però insomma è chiaramente un momento molto difficile per il Manchester City, però il calcio delle volte è molto strano. Quando ti sembra che ormai sia tutto finito, tre o quattro partite dopo tutto è cambiato, fin quando ci saranno punti da guadagnare, noi abbiamo il dovere e l'obbligo di prendere e di credere che possiamo fare tutto. Abbiamo iniziato il nostro progetto tre anni fa, in tre anni abbiamo vinto tre titoli, siamo sempre nelle prime tre, siamo in Champions, abbiamo ancora possibilità di vincere qualcosa quest'anno. Insomma, penso che tutti questi discorsi siano ridicoli, se il Manchester City mi dovesse licenziare dopo aver perso in FA Cup con l'Its, insomma, guardate, tutte le altre squadre di Premier League, anche tutte queste squadre dovrebbero licenziare i propri allenatori. Sì, in Premier League, dovrebbe essere senza il manager.